Stefano Giacquinto, sindaco della città di Cagliazzo, designato candidato presidente della provincia di Caserta in maniera unita di tutto il centro-destra, com'è stata designata la sua candidatura? La mia candidatura è stata designata poiché il centro-destro unito si è raccolto nella mia persona perché vivo da un'esperienza amministrativa comunale già da anni, sono al terzo mandato di sindaco e anche con una forte esperienza provinciale, ricordo che sono stato già assessore provinciale, eletto con il voto dei cittadini e poi sto vivendo queste esperienze da consigliere provinciale votato dai consiglieri comunali. Il sindaco, il centro-sinistra è spaccato a metà, con il sindaco Mir, il sindaco di Santa Maria, sostenuto dal PD, Italia Rive e altri partiti, Movimento 5 Stelle sostengono il presidente uscente Magliocca, ex centro-destra. Come vede questa spaccatura nel centro-sinistra, specialmente per quanto riguarda la sua scesa in campo? Sinceramente non guardo molto cosa succede in casa altrui, guardo soprattutto a questa mia candidatura del centro-destra unito e soprattutto poi andare a raccogliere quel consenso di amministratori, di uomini e donne che vogliono partecipare attivamente alla vita amministrativa della provincia, perché credo che i sindaci, i consiglieri comunali sono i veri protagonisti di un'amministrazione provinciale, oltre al Consiglio che si andrà a formare, ma credo che i sindaci, i consiglieri saranno i primi ad essere ogni volta interpellati dal presidente se avrò questo onore di rappresentare la provincia di Caserta. Io ci credo, è una partita che giochiamo, credo, a darmi pari con tutti e quindi anche un bocca al lupo agli altri, ma io preferisco che sia io ad amministrare prossimamente la provincia di Caserta. La sua coerenza, sembra il centro-destra. Un'ultima domanda, lei che ha amministrato in provincia con il presidente Magliocca, com'è adesso vederlo dall'altra parte? Onestamente fa un po' strano, perché una persona che è stata sempre di centro-destra, la sua storia politica e di tutto rispetto da Alleanza Nazionale, a Fratelli d'Italia, poi in Forza Italia. Oggi onestamente non credo che sia l'unico ad avere questa perplessità, questo suo modo di approcciarsi a partiti diversi da quelli che in questi anni l'hanno sempre sostenuto e gli hanno dato tante opportunità di candidatura, anche molto importanti. Però naturalmente io guardo in casa mia e ci prepariamo a questa campagna elettorale che sarà sicuramente entusiasmante incontrando tutti i consiglieri comunali e i sindaci di questa nostra terra di lavoro. In bocca al lupo. Crepe. Viva il lupo anzi. Viva il lupo. Viva il lupo.